Una persona a modo molto gentile, molto garbata, che sapeva fare molto bene il suo lavoro. Stiamo parlando di sport, speriamo che succeda qualcosa di importante. Era uno che era sempre con noi. Ci trovano in grosso imbarazzo e magari anche in deficit. Il chevo mi piace perché è molto opportunista. Servo naturalmente un ricordo fantastico dell'uomo. Scara, Cesè, Spal, insomma non sono poi le ultime arrivate. Soprattutto un grande amico. Se qualche giocatore fuori fase, che colpa era di Carlo? Germano per me era veramente come, non dico un padre, ma un fratello maggiore. I tempi in cui c'era Zigoni, quindi guarda quanto tempo parlo, perché il figlio di Zigoni andava a scuola dove c'era mia figlia. E allora avevo una vigilia di Natale, non è che mi sono vestito completamente da Natale. Provolo se non vado a raro. Come? Che erano le scuole Provolo. Non ero vestito da tutto, da Babbo Natale, però avevo un po' la barba così me l'ho messo, ecco tutto qui. Lui ti salutava sempre, ti diceva ciao grande, in realtà il grande era lui. Germano Mosconi, ciao Germano.